Amici telespettatori, sempre 16 live pronti per portare nelle vostre case quante più informazioni possibili e con questo spazio oggi proveremo ad essere utili attraverso appunto il sindaco risponde che è una rubrica che noi dedichiamo ai primi cittadini che possono confrontarsi con i loro concittadini, magari anche rispondere alle domande che possono pervenire allo 091 854 9171 oppure se siete un po' timidi anche basta scrivere un messaggio whatsapp al 391 817 68 72, da questo momento potete prenotarvi, scrivere, segnalare, lo avete già fatto perché con il sindaco che incontreremo quest'oggi abbiamo già lanciato dei post sui social e già subito sono arrivate dei vostri messaggi che adesso vi riproponiamo. Il sindaco in questione quest'oggi è Filippo Maria Tripoli, sindaco di Bagheria, ben trovato sindaco. Buonasera a tutti, salve. Ma siamo supportati da una firma del giornalismo che è Pino Grasso, ben trovato. Ciao Roberto, ciao a tutti i nostri spettatori. Grazie naturalmente perché la storicità di Bagheria che voglio ricordare a tutti che Telewan nasce a Bagheria oltre 40 anni fa e poi si diffonde a livello regionale. Ecco perché insomma il sindaco, mi perdoneranno gli altri, è il nostro preferito. Allora, ma per dare rispetto naturalmente a tutti i concittadini, che città è? Sindaco, lei aspetti perché qua decidiamo noi, non lei. Sto scherzando. Pino, che città è Bagheria? Insomma, che cosa ti senti di poter dire prima di tutto? Credo che sia una delle città più belle della Sicilia comunque. Intanto il fatto che tu la definisci città è già una cosa positiva. Ecco. Quindi non siamo a livello di paese, ma siamo a livello di città della più grande città di tutta la provincia di Palermo. 56 mila abitanti, la cosiddetta città delle ville, adesso anche del gusto. Una città che ha pregi e difetti, naturalmente come tutte le città. C'è una tradizione abbastanza radicata, che è quella della cultura, connotata soprattutto dalla cultura, da persone che sono state intraprendenti negli anni. Una città laboriosa, certo non dobbiamo andare troppo per le cose antiche, ma ricordo che per esempio la prima fabbrica del pomodoro nasce a Bagheria. Una fabbrica che aveva diverse persone che lavoravano, non solo, ma anche le industrie di trasformazione del pesce, quella della conservazione e della commercializzazione degli agrumi. Diciamo che è stata sempre una città molto laboriosa. Poi attorno agli anni 70-80 ci fu il boom edilizio e lì secondo me le cose cominciarono a non andare tanto bene, perché ci fu un, come dire, ci sono state delle situazioni non chiare. Il piano regolatore che non si applicava, non si approvava, si costruiva senza nessuna regola. E quindi chi si trova poi dopo, naturalmente, si trova con una situazione che è difficile poi da recuperare. Quindi opere di urbanizzazione primaria non fatte, strade ancora non asfaltate e tutto questo che potrebbe rappresentare un panorama abbastanza complesso e complicato. Ma al di là di questo, negli anni, le amministrazioni che si sono succedute hanno cercato di fare quello che hanno potuto. Sicuramente il bonus delle amministrazioni qual è? Fondamentalmente è quello che c'è stata sempre una litigiosità, perché se governo io, l'altro mi dice che non va bene, se governa l'altro, io dico all'altro... Dove è la novità? Lo fanno anche quelli che stanno sullo stesso governo. Però dico, se si ha l'amore per la città, allora tutti dovrebbero remare nella stessa direzione. E invece, siccome c'è Tripoli e allora io gli vado contro, se c'è un altro gli vado contro, ci dovrebbe essere, secondo me, un amore per il territorio. Ora, a Bagheria comunque lo zoccolo duro dei bagheresi cosiddetti, nati, cresciuti, siamo rimasti in pochi. Tra questi anche noi due, sia il sindaco che io. Ma la maggior parte delle persone sono immigrate, sono persone che vengono da altri paesi, che hanno scelto Bagheria, secondo me, anche, come dire, scegliendo bene. È una posizione favorevole, con il Palermo e le altre città. Sì, 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 diciamo, è vivibile, però, come dire, ci sono però tutti quei problemi, e penso, per esempio, un amministratore... No, aspetti, aspetti, non è che... Adesso possiamo... Eh no, dobbiamo far parlare il sindaco. Allora, sindaco, perché noi siamo come Raiuno, no? Quindi adesso saranno lì tutti con la TV accesa per sentire che cosa ci dice il sindaco. Ci sono novità a proposito, intanto, dei vari... Perché credo che il passaggio fondamentale per qualsiasi comune della Sicilia e questo intervento sui piani finanziari, PNRR, che possono dare una svolta. Ecco, diciamo le ultimissime, le news, no? All'ultima ora, se ce ne sono. Ma le news, qualcosa l'ho detto già la scorsa volta, oltre ad aver acquistato il mulino, Cuffaro, dove lì verrà riqualificato dopo più di 30 anni che è in stato di abbandono, la stessa cosa avverrà con la Sicilcalce, è sullo stadio di Aspra. Sullo stadio di Aspra abbiamo ricevuto un finanziamento di 8 milioni di euro, gli uffici hanno mandato la delibera alla presidenza del Consiglio e lì potremo riqualificare finalmente lo stadio di Aspra, che secondo me diventerà uno degli stadi più belli della provincia, perché è sul mare, con una pista di atletica, la seconda è la Sicilia, con un campo da gioco, posti a sedere, insomma, una bella storia. Ma c'è già il progetto di fattibilità, tutto? Assolutamente, già c'è tutto pronto. Ma lei ce li porti queste cose, Sindaco, scusi. Quando verrà pubblicata la gara lo ufficializzeremo. No, lei ci deve fare l'anteprima perché noi siamo, lei è il nostro preferito e noi siamo la televisione sua preferita. Va bene, va bene. Quindi con i fondi del PNRR non solo, prima di venire qui ero in riunione con gli uffici, perché entro l'anno ci sarà la consegna dei lavori per quanto riguarda la riqualificazione di alcuni assiviari, non a valere su fondi del PNRR ma su una linea di finanziamento che abbiamo intercettato a pari a 10 milioni di euro che riqualificherà assiviari importanti come il Rettifilo, per esempio, piuttosto che la Via Libertà o anche Corso Butero, la Via Quattrociocchi. Quindi ci sono un bel po' di cose in cantiere e grazie alla collaborazione degli uffici stiamo facendo ciò che è giusto fare. Pino, tu che sei un profondo conosciuto, io ti definirei uno storico di bagheria ormai. Sì, no? Perché insomma, voglio dire. Ecco, quali sono, secondo il tuo punto di vista, proprio sull'ottica di quello che tu dicevi, qui non bisogna essere polemici fine a se stessi, bisogna sì anche essere polemici ma costruttivi, no? Quali sono le criticità principali, secondo il tuo punto di vista da conoscitore profondo di bagheria? Ma bisogna vedere in quali ambiti tu ti riferisci. Vabbè, mettiamoci le priorità. Sei nell'amministrazione, è chiaro che adesso le leggi sono molto complesse, ci sono diversi passaggi, c'è anche comunque una litigiosità all'interno anche pure del Consiglio. E questa era per esempio una di quelle domande che volevo fare al Sindaco. Tu hai libertà, puoi chiedere quello che vuoi. Praticamente il Sindaco viene eletto con una non maggioranza, poi nel corso degli anni, siamo all'ultimo anno di mandato, perché l'anno prossimo, nel 2024, ci saranno le elezioni amministrative. Ci sono stati degli aggiustamenti, ci sono stati insomma dei passaggi da una parte all'altra. Adesso il Sindaco ha la maggioranza alla fine del mandato. Sono stati trasferimenti da altri casi. Durante questi quattro anni c'è stata anche una rimodulazione anche della Giunta, che non è quella iniziale, è cambiata. E probabilmente, questa è la domanda, cambierà ancora in quest'ultimo anno. Ecco. Per fare anche dei nomi, si dice che per esempio il Vice Presidente del Consiglio Comunale, Gurrado, Francesco Gurrado, potrebbe entrare in Giunta. E naturalmente ne uscirebbe un altro, perché il settimo assessore, Tripoli lo ha già nominato a tempo fa. Quindi in questo caso, qualcuno deve uscire per poter entrare. Ecco, faccia la domanda. Perché il Sindaco è qua. risponde al vero che Gurrado possa rivelare. E risponda sinceramente, Sindaco, così non faccia il politico. No, io su questo al momento non posso dire nulla, perché non c'è nulla di concreto. È chiaro che la politica è dinamica, nel tempo ci sono state delle evoluzioni, però il dato che secondo me è significativo è che noi ad aprile del 2019 ci siamo presentati con una coalizione civica, che era alternativa alla destra e alla sinistra-sinistra. Questa coalizione civica, secondo me, ha un valore politico in sé, che è il programma di governo. È chiaro che questa coalizione civica in questi quattro anni ha avuto gruppi che sono usciti dalla coalizione civica e sono diventati partiti e gruppi che erano all'opposizione e sono entrati in maggioranza. Quindi c'è stata comunque una dialettica importante. Io però, l'approccio che ho cercato di dare è che io ho lasciato, come dire, piena libertà, come è giusto che sia, al Consiglio Comunale, perché noi siamo stati eletti con 15 consigliere comunali, noi avevamo la maggioranza, ma in realtà questa maggioranza in Consiglio c'è stata pochissime e rarissime volte, perché credo nella libertà del consigliere comunale, che ha un vincolo con gli elettori, di rispondere agli elettori e soprattutto al programma che ha proposto agli elettori, perché il programma di governo di aprile del 2019 è stato sottoscritto alla coalizione. Io sto tenendo fede a quel programma di governo, al di là poi dei ruoli e di chi lo interpreta e il mio unico obiettivo al momento è arrivare a conclusione della consigliatura e poter guardare in faccia agli elettori e dire quello che io vi ho detto che dovevo fare, l'ho fatto. Poi ci sarà l'avvio della campagna elettorale, mi auguro per nel 2024, al di là di chi sia il candidato sindaco, che sarà altrettanto affascinante. Diciamo che il sindaco Tripoli ha saputo fare il sindaco. Chiaramente però c'è stato sempre qualcuno che magari è rimasto scontento e infatti io penso che l'anno prossimo ci sarà qualche altra new entry o quantomeno ci saranno delle persone che si proporranno alla città. Il problema è se queste persone che si proporranno alla città avranno un programma chiaro e soprattutto degli uomini che possano rispondere a questo programma che si può realizzare. Per cui diciamo il sindaco è al primo mandato quindi potrebbe rifare un secondo mandato e questo... Anche perché di solito non basta mai un mandato per... Cinque anni diciamo che sono sempre pochi per poter realizzare un programma. Tra l'altro il programma che lui ha presentato non penso che ancora lo ha terminato e nell'anno che manca non riuscirà comunque questo me lo dirà comunque lui se riuscirà a completare il programma che aveva presentato agli elettori. In ogni caso questo potrebbe essere una possibilità di dire ecco io mi ricandido ma bisogna vedere come in che modo lui stesso l'ha detto la politica cambia la politica è in fieri quindi uomini persone ideologie l'abbiamo visto anche recentemente con le primarie del PD insomma le cose cambiano ogni volta ed è bene che cambiano anche perché se uno rimane come dire affastellato alle sue idee non penso che possa andare avanti quindi questo potrebbe essere allora diciamo ai nostri amici che ci stanno seguendo da casa se volete porgere delle domande al sindaco di Bageria sappiate che c'è quella linea che è aperta 091 854 9171 non dite poi che non ve l'avamo detto e quindi sfruttate questa occasione però mi dicono che ci sono già dei post quindi datemi un post così facciamo rispondere direttamente al sindaco noi li prendiamo così per come arrivano non li abbiamo neanche help di scarica continua davanti a casa mia case alte Parisi Bageria canto clinica Santa Teresa sì so anche chi chi lo scrive quella zona anche le foto ci ha mandato sì sì noi quella zona lì allora noi Bageria l'abbiamo ad aprile 2019 presa con una percentuale di differenziata del 32% oggi siamo al 70% di differenziata purtroppo in alcune zone di campagna alcuni cittadini diciamo così poco diligenti la utilizzano come le utilizzano come discarico come discarico nonostante le bonifiche che vengono fatte devo dire che in quella zona là però delle case alte di Parisi ne sono state fatte veramente poche la gente continua ad abbandonare in un momento in cui anche le discariche ci contingentano diciamo la quantità di rifiuti indifferenziati da portare lì è chiaro che soprattutto in alcune zone la raccolta degli abbandoni le cosiddette bonifiche sono un po' diminuite e anche a chi scrive e condivide il disagio che vive io ho suggerito qualche cosa da poter fare io quello che posso dire ma questo lo potranno dire i cittadini che Bagheria oggi è una città pulita abbiamo cominciato lo spazzamento meccanizzato con alcune modifiche che verranno fatte probabilmente sugli orari però purtroppo come tutte le grandi città ci sono alcune zone periferiche non di quartieri io dico di campagna dove alcuni cittadini incivili scaricano abusivamente alcuni li abbiamo beccati con le fototrappole e le telecamere e su alcune ci sono delle indagini in corso avete anche aperto mi pare un whatsapp per le denunce è vero? è un whatsapp per le denunce su alcune zone come quelle delle case alte parisi bisogna fare un intervento un po' più accurato anche perché purtroppo molto spesso anche alcuni posso dire non solo incivili ma scalzoni abbandonano anche l'amianto e quindi quando si trova l'amianto poi bisogna avviare un piano di sicurezza approvato dall'ASP bisogna incapsulare l'amianto e poi rimuoverlo quindi stiamo sul pezzo però su alcune zone come quelle delle case alte parisi lì siamo un po' in ritardo però penso che su queste zone bisogna iniziare a fare un altro tipo di ragionamento ecco occorre sicuramente un controllo da parte anche del cittadino cioè il quale non ha la cosiddetta compartecipazione sì perché se la città è pulita è pulita per tutti se è sporca è sporca per tutti quindi bisogna collaborare al bene comune sulla pulizia si è fatto molto ma ancora si deve fare perché sicuramente non siamo all'ottimo ma ancora e questo è comunque un grande problema cioè la gente che sa che passa lo scopino che passa la motovasca però abbandona lo stesso e non differenzia questo per fortuna non è una grande percentuale di persone però è brutto perché a Bagheria per visitare le ville ti viene un turista la prima cosa che vede non è la villa non è il bene pubblico ma ti guarda il sacchetto che si è da abbandonare un altro problema scusami Roberto un altro problema invece che bisognerebbe attenzionare e secondo me l'amministrazione lo deve fare anche con un piano proprio di intervento specifico è quello del traffico cioè c'è un traffico caotico non si riesce a posteggiare nei momenti di punta la mattina e nel pomeriggio all'uscita della scuola all'entrata e all'uscita della scuola è impossibile per cui poi c'è un un organico sottodimensionato di vigili urbani hanno fatto delle assunzioni recentemente ma non bastano io se non ricordo male l'organico di 80 vigili urbani li avete in servizio la metà quindi questo diciamo che è un altro problema che bisognerebbe pare che ci sono dico questa è una delle problematiche che ho riscontrato anche in tanti comuni quello della mancanza dell'organico del numero esatto dell'organico impegnato però mi pare che ci siano state da parte degli interventi che vi consentano di operare e di agire allora noi dobbiamo parlare con la verità e dire le cose con chiarezza il problema del traffico a Bagheria è un problema serio e non di facile soluzione almeno nel medio periodo io questo l'ho detto anche in campagna elettorale nel 2019 perché Bagheria è una città che è cresciuta in un fazzoletto e in una porzione di terreno di aria di territorio molto ristretta non ha un territorio molto vasto Bagheria e purtroppo come già è stato detto in precedenza Bagheria è cresciuta a pezzi perché nel boom della speculazione edilizia non essendoci un piano regolatore che organizzasse in modo equilibrato la città di Bagheria ci sono state le sproporzioni e una crescita anche vertiginosa motivo per cui ed è quello che noi abbiamo fatto con le direttive che abbiamo approvato in giunta due settimane fa sul nuovo Pug quindi sul nuovo piano generale urbano che bisogna prevedere nuove vie di connessione che mettono in connessione il monte e il valle della città perché oggi se noi pensiamo a quello che era la via città di Palermo negli anni Ottanta che era considerato una via periferica oggi la via città di Palermo basta guardare i video che pubblica qualche nostro concittadino per rendersi conto che cos'era la via città di Palermo via ingegnere Giuseppe Bagnera negli anni Ottanta e cose oggi che è una via assolutamente urbanizzata ed è l'unico asse di collegamento tra monte e valle l'ideale sarebbe la male Monti cioè un collegamento che c'è tra valle e Montollina ma deve essere intesa come un asse di collegamento esatto tra monte e valle che dia la possibilità di decongestionare il centro urbano allora telefonata il signor Giorgio evidentemente ci chiamerà da Bagheria giusto? sì sì bene prego il sindaco la sta ascoltando dica no no volevo dire al sindaco che non è mai stata fatta nessuna bonifica nelle case alte paris che lui conosce benissimo mai nessuno è venuto ma poi dico c'è immondizia a tutti i livelli qua è uno uno scarico uno scarico a cielo proprio per non dire che la sera e anche la mattina è un pieno di macchine che vengono a fare i loro porci comodi e buttano tutta a terra da profilatici a tutto a tutto il resto compresa l'immondizia dico di più e lui lo sa benissimo ma non è mai venuto nessuno qua dell'amministrazione a venire a Bevero a levare l'immondizia a levare l'amianta a levare i cani morti i cani morti va bene è chiaro è chiaro è l'importante io ho pure fatto denunzie ai carabinieri ma mi hanno risposto che vogliono nome e cognome e non me lo utilizzare alla macchina per avanzare questa si chiama devo bussare alle macchine mentre scopano e dire scusi ma lei mi dà nome e cognome siamo in una fascia protetta va bene grazie per la segnalazione sentiamo il sindaco subito intanto saluto a Giorgio che ci conosciamo da parecchio tempo e vabbè perché lì è fondamentalmente bagheria è chiaro che quando gli operatori vanno lì non è che chiamano la gente che abita lì che sono poche abitazioni ma purtroppo è una zona di campagna quindi è dietro Villa Santa Teresa guardando la strada statale 113 ed è una zona dove ci sono molti terreni abbandonati dove di fatto non sono curati e ci sono molti rifiuti è stato fatto qualche piccolo intervento come ho detto anche prima e non come in altre zone però lì come io ho consigliato anche a chi abita quelle zone allora si potrebbe fare adesso dico una cosa no perché lui solleva una questione siccome lì c'è uno spiazzale ampio la sera chiaramente è il luogo di ritrovo anche di coppiette ma questo dagli anni 90 è anche una cosa pericolosa è una cosa pericolosa io lì ho suggerito che bisogna fare un'attività sinergica tra amministrazione e privati che possa portare anche per questioni di sicurezza alla chiusura della strada e all'utilizzo soltanto da parte ovviamente degli organi comunali quindi degli uffici comunali delle forze dell'ordine e degli abitanti della zona perché sono quelle zone dove ma scusi è pubblico o privato è una strada di fatto pubblica ma è una strada pubblica dove ci sono una serie di terreni privati ed è una strada senza uscita ed è una strada che mentre prima negli anni 80 e negli anni 90 che c'era chi coltivava il terreno erano mantenuti tutti bene adesso no adesso non più quindi bisogna trovare non fate un'ordinanza e la chiudete ed è quello che io ho suggerito come stiamo facendo noi in altre strade periferiche e quindi che sono zone di campagna dove per questioni di sicurezza si chiude la strada con una sbarra o con un cancello ed è ad uso sia del comune quando ha necessità delle forze dell'ordine ma dei privati che ci abitano e che devono raggiungere ma questa è una soluzione mi date un posto perché non abbiamo tanto tempo vorrei accontentare quanti più telespettatori possibili mi date un altro posto così andiamo signor sindaco come intende risolvere la questione del caos e dello svincolo autostradale siamo alla disperazione io devo lavorare a termini merese tutti i giorni devo partire due ore prima grazie ma per adesso sullo svincolo ci sono i lavori per finalmente aprire la bretella T1 che collega da Catania verso Palermo l'uscita anticipa l'uscita e quindi dovrebbe decongestionare il traffico ad oggi nello svincolo diciamo quello quello vecchio ci sono i lavori in corso ci sono stati dei rallentamenti perché ci sono state le autorizzazioni che l'ANAS doveva dare e questa è una parte però del problema perché la vera questione ritorniamo al discorso originario se riuscissimo ne a creare un asse di collegamento dal monte al valle si potrebbe creare una seconda uscita autostradale già con questa bretella T1 penso che si dovrebbe decongestionare un po' di più il traffico ma il problema del traffico a Bagheria è serio perché c'è una popolazione in aumento perché Bagheria va in controtendenza in aumento e il punto di riferimento è tutto il distretto ci sono circa 126 mila abitanti 126 mila cittadini al giorno e quindi è un problema ovviamente io ho capito soltanto che il tempo che abbiamo con il sindaco è poco ti devo dire questo che mezz'ora non basta sicuramente per tutti i problemi che ci sono a Bagheria dobbiamo chiedere agli editori se ci danno qualche altro facciamo un passo avanti più che sulle emergenze che ormai si sanno si conoscono il sindaco ha risposto anche altre volte noi stessi abbiamo fatto pure delle inchieste spesse volte secondo noi dobbiamo fare un passo cioè proiettiamoci avanti soprattutto per quanto riguarda la produttività per quanto riguarda lo sviluppo per quanto riguarda il lavoro perché questo che poi in soldoni può interessare alla gente e mi riferisco per esempio alle aree artigianali a Bagheria noi abbiamo due progetti di aree artigianali una per Aspre e una per Bagheria entrambe sono bloccate ci sono i finanziamenti abbiamo rischiato pure di perderli il comune ha fatto un ricorso l'ha vinto per fortuna ci sono gli espropri ancora che bloccano qualche cosa quindi nel futuro non soltanto di Tripoli ma anche di chi verrà dopo se verrà qualche altro dovrà pensare allo sviluppo di questa città che passa comunque dalle aree commerciali e alle aree artigianali allora a onore del vero l'area artigianale di Aspre è stata persa molto tempo fa almeno sei anni fa noi quando ci siamo insediati invece abbiamo trovato purtroppo l'arrevoca del finanziamento dell'area artigianale Pippi Monaco e grazie a un buon lavoro che abbiamo fatto e che ci riconosciamo abbiamo salvato il Pippi Monaco se no dobbiamo restituire al Ministero circa 4 milioni di euro adesso con un accordo siglato col Ministero abbiamo dei tempi per l'avvio dei lavori e la conclusione dei lavori dell'area artigianale tra l'esproprio e la realizzazione delle opere è chiaro che quell'area artigianale che era stata prevista e ideata tra il 2008 e il 2010 ha bisogno di modifiche ma per quanto riguarda la produttività io devo dire che ci sono dei settori a bagheria che negli ultimi anni hanno avuto sicuramente una crescita e penso alle strutture ricettive noi non abbiamo alberghi a bagheria ma abbiamo B&B quasi mille posti letto che vi assicuro che lavorano ed è molto collegato alla recettività alla qualità che abbiamo noi legata alla gastronomia alle ville e anche al borgo marinaro di Aspre è chiaro che ancora siamo all'inizio però c'è una prospettiva secondo me legata al turismo e al gusto che ci potrebbe mettere e posizionare bene tra Palermo e Cefalù anche perché bagheria trasuda sicuramente di cultura di questo comunque ne parleremo nella prossima puntata comunque non possiamo chiudere la trasmissione se non parliamo di Aspre Aspre è un borgo marinaro che fa parte di bagheria sul quale l'amministrazione recentemente ha fatto pure degli interventi ma non bastano io ho una specie di come dire cavallo di battaglia glielo chiedo ogni volta che lo vede il sindaco c'è un mercato ittico che dovrebbe essere doveva essere inaugurato già a ottobre scorso ancora no c'è il flag che comunque è interessato a questa procedura perché si dovrebbe affidare anche ai privati tra l'altro no 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 già siamo allora per essere chiari l'area del mercato ittico è già realizzata per quanto riguarda i pescatori che devono trasferirsi là già il flag perché questo è lo stesso quindi il flag non il comune ha assegnato e consegnato ai pescatori le attrezzature alcuni ce le avevano altre no adesso bisogna si sta definendo spostare di fatto l'area del pescato da dove per adesso dove è sto ricavente a quella lì dove c'erano le vecchie al no calzarello dove c'erano le vecchie capannine e penso che sia una cosa che verrà fatta a breve però possiamo dire senza tema di dimentica che su Aspra abbiamo investito il bando è stato esperito già quindi sono stati affidati i privati basta parlare col flag che Dan sì sì assolutamente sì però all'or del vero questo penso che sia sotto gli occhi di tutti su Aspra abbiamo investito molto sin dall'inizio e lo continueremo a fare perché ora cominceranno i lavori entro l'anno sul rettifilo va bene ci dobbiamo fermare io mi dispiace tanto però noi ogni settimana facciamo questo appuntamento magari chiederemo ai nostri editori bagheresi ovviamente che se ci danno un altro po' di tempo quindi troveremo anche una collocazione un po' più lunga perché ripartiamo da Aspra così facciamo questa ripartenza grazie al sindaco di Bagheria grazie a Pino Grass per il suo contributo autorevole naturalmente in questo incontro grazie soprattutto a voi per averci seguito come sempre non posso che augurarvi buon proseguimento ad ascolto grazie a tutti